Ancora senza approvazione il bilancio preventivo del Comune di Pescara, superato il termine del 31 gennaio che avrebbe permesso l'utilizzo immediato delle casse pubbliche, utile all'indomani della grande ondata di maltempo per mettere subito in opera le operazioni di ripristino della viabilità, oggi si punta ad una nuova seduta che tenterà di trovare un accordo tra opposizione e maggioranza. Lavoriamo affinché la Bemus Papam si manifesti il prima possibile per le ragioni che è appena esposta e cioè con il fatto che approvati il bilancio comunque parte una programmazione che come primo bersaglio dovrà mirare naturalmente alla manutenzione delle strade così pesantemente incise dal maltempo di gennaio, tanto per avere un'idea d'anni che una prima stima montano un milione e due. Siamo prossimi a definire appunto un accordo complessivo che valga al consentire in qualche modo una votazione su un bilancio che è importante per la città. Resta naturalmente il rammarico di aver scavallato inutilmente la soglia del 31 gennaio con i benefici premiali che sono stati persi ma è chiaro che noi attiveremo immediatamente dopo aver approvato il bilancio ogni interlocuzione parlamentare per lavorare su una eventuale diciamo proroga di questo termine considerando che noi siamo un territorio in cui la furia della natura si è fatta sentire molto nel mese di gennaio e quindi possono ricorrere le condizioni per una proroga straordinaria di termini. Invita la responsabilità pubblica al sindaco Alessandrini. L'opposizione aveva tenuto a precisare che la mancata approvazione lo scorso 31 gennaio era motivata dalla richiesta di spostare i fondi destinati ad opere come il mercatino etnico ad altre voci più urgenti per la città. Questo è stato un diciamo appunto un vessillo ideologico sventolato in nome e per conto appunto di una politica muscolare che ha recato penso dei danni alla città di Pescara. Il mercatino etnico è una questione senz'altro sensibile ma risponde ad un'esigenza santificata già da mesi dal Consiglio Comunale che individua in quella sede quella del terzo sottopasso della stazione la migliore allocazione possibile per una questione che esiste. Io penso che la politica oggi non possa affrontare i problemi negandoli facendo finta che non esistano figuriamoci poi strumentalizzandoli ma bisogna dare risposte concrete e quella è la miglior risposta concreta possibile.